Ciao, tu lo sai chi sono Felice Gaia? Che nomi ganzi! Ma chi sono? Sono le mascotte del sistema museale della provincia di Lucca. E che fanno? Tanti progetti per invitare famiglie e bambini a visitare i musei. Adesso stanno per cominciare i laboratori 3D Fantasy. Ma cosa dici? Sei diventato grullo. Cos'è questo 3D? Spiegati meglio. È semplice. Vengono realizzate piccole riproduzioni di opere d'arte conservate nei musei. Guarda, questo è il leone Marzocco, che si trova a Barga. Dei leoni così ce ne sono anche a Firenze. Ed ecco il buffardello, un folletto della Garfagnana. E poi una sorpresa. Ma è questo, Felice? È fantastico! Hai visto? Ora sgrana gli occhi perché rimarrai a bocca aperta. Oh, che meraviglia! L'incantevole Ilaria del carretto della Cattedrale di Lucca. Dimmi, quando sono questi laboratori? Ma si deve pagare? Ma che, sono gratuiti! E i primi 10 che si iscrivono a ogni laboratorio riceveranno in omaggio una delle opere in 3D. Leggi il cartello, con il calendario dei laboratori. Oh, è proprio bellino sto progetto! Allora chiamo la miscerella per farci venire anche i nipotini. Saranno contentissimi! Grazie! 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 Grazie!